Veramente impressionante questa strana giostra che si trova all'interno del parco Phantasialand di Brühl in Germania. Talocan, il suo nome ispirata ai templi Maya, sembra quasi un altare sacrificale. In questa clip tra fiamme e getti d'acqua i volenterosi malcapitati vengono sobbalzati in una serie di movimenti roteanti. Tra esplosioni di fuoco e giri della morte si esce, dicono i sopravvissuti allo strano marchigegno, veramente disorientati, con la testa che rotea come una trottola e con lo stomaco sottosopra.